we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi nuove sfide della modalità fai centro in centro dobbiamo trovare per tre volte john c jones nascosto in punti diversi il primo ragazzi come vedete è proprio là davanti a noi nel campo da basket abbiamo iniziato da poco la partita e subito sulla sinistra c'è il campo basta semplicemente proseguire per questa discesa e cercare di avere un po di abilità nel saltare qua e poi la sopra ragazzi avete visto la sopra c'è il secondo john c jones che è quello sopra i tetti mentre per l'ultimo quello che rimane dietro ad un camion dovete obbligatoriamente finire un giro completo e vi spiego anche il perché una volta che avrete raggiunto la parte finale del giro in poche parole là davanti a noi quella specie di pedana che ci fa rimbalzare c'è un passaggio semi nascosto ragazzi che forse non avete ancora notato che è proprio questo una volta entrati in questo vicolo ragazzi nascosto proprio qua c'è il nostro john c numero 3 che quindi ci permette di completare la sfida beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani in live alle 13 ciao